Su disposizione del Tribunale del Riesame, la squadra mobile di Campobasso, in collaborazione con il nucleo di Polizia Giudiziaria della Procura, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, ha eseguito finora 2.700.000 euro di sequestri cautelativi al fine di recuperare per equivalente i 4.300.000 euro di frodi accertata da parte dei titolari di alcune concessionarie. È un provenimento del Tribunale di Campobasso di sequestro preventivo per complessivamente poco più di 5 milioni di euro, fatto dalla squadra mobile della Questura di Campobasso, dall'ufficio controllo dell'Agenzia delle Entrate della Regione Molise e dalla liquota della sezione IPG della Guardia di Finanza della Procura della Repubblica di Campobasso. Questa mattina la conferenza stampa in Questura che nasce dal verdetto del Riesame emesso nei giorni scorsi e che ribalta in parte l'iniziale posizione del GIP rispetto alle misure chieste dal titolare dell'inchiesta, il procuratore Nicola D'Angelo. L'accusa associazionale delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'erario, 48 persone iscritte nel registro degli indagati e 6 per 4 il procuratore aveva chiesto ai domiciliari, per altri 2 chiedeva la detenzione in cella. Ora su disposizione del Riesame sono iniziati a carico di 8 indiziati sequesti preventivi per milioni di euro sottratti all'erario. Quanto invece ai precedenti provvedimenti, per uno dei due imprenditori è stato chiesto ed ottenuto il divieto di dimora in Molise e in campagna, per l'altro soltanto in Molise. I tecnicismi, le modalità di truffe, le cartiere, quindi il modus operandi di questi soggetti si è perfezionato e quindi come si è perfezionato la condotta automaticamente c'è la necessità di appoggiarsi a organi tecnici, in questo caso l'ausilio dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito appunto il supporto tecnico, oltre a quello della Guardia di Finanza, nell'effettuazione delle verifiche necessarie. L'inchiesta è nata sull'input dell'Agenzia delle Entrate che tra il 1 gennaio 2014 e il 30 aprile 2017 aveva notato una percentuale di immatricolazioni di auto a Campobasso paurosamente alta rispetto al resto d'Italia. Tradotto in numeri significa che sono state registrate alla motorizzazione civile 2897 automobili per lo più provenienti dalla Germania, di cui 2167 immatricolate a Campobasso e 730 a Isernia. Ma conseguenze penali a parte l'indagine sotto il profilo fiscale è colossale. È facile anche calcolarlo perché i sequestri che sono riferibili all'IVA sono per oltre 5 milioni di euro, quindi il volume d'affari messo sotto controllo in questa fase di indagine supera i 10 milioni di euro. L'evasione delle imposte infine è stata realizzata attraverso l'interposizione di società cartiere, ovvero società che vengono utilizzate proprio per l'acquisto e la vendita fittizia di merci. Lo scopo di questo intreccio era quello di dissimulare l'effettiva transazione commerciale che invece avviene tra due soggetti realmente operanti con lo scopo di evadere l'IVA.